Sono molto agitato, non vedo l'ora, sinceramente. È una cosa che hai sempre visto in televisione, da giocatore l'hai sempre potuto andare, quindi finalmente è arrivato l'ora. È un po' lungo prima di andarci, noi abbiamo 26 giorni di tiro prima della prima partita, quindi è anche un po' lungo, impegnativo, però è comunque una cosa che lo farei volentieri. Ma ce ne sono tanti, dalla nostra girona c'è anche l'Olanda, che è una squadra che io vedo molto forte, poi c'è la Spagna ovviamente. Sono molto curioso di vedere l'Argentina di Diego, cosa farà, però sono sempre gli stessi, più o meno. Sì, c'è la nostra forza e il gruppo. Abbiamo ovviamente un paio di giocatori fondamentali, un po' di giocatori della Juve, e anche Bentner dell'Arsenal, che possono fare la differenza per noi. Però per il resto è una squadra che anche durante la qualificazione abbiamo avuto tantissimi infortuni, però nonostante questo tutti i giocatori che sono entrati hanno fatto bene. Credo che l'allenatore sia molto bravo a trasmettere quello che lui vuole, chiede dai calcedori. Grazie.